Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video Oggi 26 novembre, da Amazon mi è arrivato un pacco Questo è l'ultimo, ma proprio l'ultimissimo acquisto che ho fatto con il Black Friday Oggi comunque su Amazon ci sta il Cyber Monday Comunque prendiamo la zaccagna e passiamo all'unboxing Cosa avrò ordinato stavolta? Cosa avrò preso come ultimo pacco? Ho preso Ho preso Il Film noir Seduzione mortale Film del 52 Diretto da Otto Breminger In questo film c'è Robert Mitchum In questo film è doppiato dalla sua voce ufficiale Giulio Panicali L'ho preso in offerta a 10,80 euro anziché 14,84 Fa parte della collana Noir de Se Qua ci sta il retro e le varie cose Come extra c'è solo la galleria fotografica Lingua italiana e inglese Se volete poi vederlo in lingua originale ci sono sottotiro in italiano Audio a un dual mono Film dura 88 minuti circa Il film è in bianco e nero C'è scritto qua dietro Uno dei noir più celebri degli anni 50 Diana è una ricca e affascinante ereditiera Che adora il padre e odia la matrigna Frank è un conducente di ambulanze Che viene travolto da un'irresistibile e ricambiata passione per la donna Legame di sangue, vortice di violenza e poi un delitto Soluzione mortale Un film del 53 Diretto da Otto Breminger Interpretato da Robert Mitchum, Jean Simmons e Mona Freeman Fonti moderne vogliono che la sceneggiatura si basi sulla vera storia di Belau Louise Overwill e George Gallum Accusati nel 1947 di aver ucciso i genitori di lei in uno yacht nella rada di Newport Beach Il film è della RK Orario Picture E comunque E niente, ci vediamo alla prossima